Dal 2010 le donne con tumore ovarico hanno un punto di riferimento importante rappresentato da Acto Onlus, un'associazione di pazienti rivolta unicamente alle donne con questo tipo di problema. Noi abbiamo il piacere oggi di farci raccontare un po' le attività di questa associazione, quali sono appunto le sfide che devono superare, soprattutto le sfide che devono superare le pazienti in un momento così difficile della loro vita, dalla presidente di Acto Onlus, da Nicoletta Cerana che abbiamo incontrato qui a Torino in occasione di un importante congresso di oncologia ginecologica. Cosa vi chiedono le donne con tumore ovarico che appunto si rivolgono alla sua associazione ad Acto Onlus? Le donne che si rivolgono alla nostra associazione chiedono soprattutto un aiuto nel momento in cui ricevono la diagnosi di tumore ovarico, è un momento estremamente difficile, è un momento in cui la donna si sente sola e ha bisogno quindi di sostegno, di aiuto, di informazioni e principalmente di informazioni sulla malattia perché ancora non è una malattia, è un pochino più conosciuta ma sempre un po' così conosciuta a grandi linee, che ha bisogno di approfondimenti, ha bisogno di informazioni sui centri di cura, dove curarsi, ha bisogno di informazioni sui percorsi di cura, ha bisogno di informazioni sui medici, sugli specialisti, ha bisogno di un aiuto per scegliere e ha bisogno di un aiuto per vincere quel senso di urgenza che spesso ti porta a fare delle scelte sbagliate e ha bisogno quindi di essere accompagnata da noi verso scelte più giuste, soprattutto di tipo chirurgico e successivamente di tipo terapeutico. Quindi noi facciamo un orientamento verso i centri specialistici. Senta, una delle novità più importanti sia per la diagnosi ma anche per la terapia del tumore ovarico è rappresentata dal test BRCA appunto che si utilizza da pochi anni. Ecco, nei confronti del test qual è la situazione informativa? Le donne sono già informate, sanno già tutto oppure hanno solo un'informazione parziale, hanno delle domande, dei dubbi? Ecco, come si regolano nei confronti del test le donne con appunto con tumore ovarico? Le donne hanno saputo della mutazione BRCA da Angelina Jolie quindi la prima cosa che sanno è che Angelina Jolie deve aver avuto problemi con questo gene modificato. Cosa poi? Questo problema comporti non è così chiaro. Quindi sul test BRCA ci sono tanti, se ne parla tanto ma non si sa molto. Quello che noi facciamo come associazione è quello di aiutarle ad essere informate ma ci scontriamo con tre tipi di atteggiamenti. Ci sono le donne che appunto sulla scia delle notizie riguardanti la Jolie sono andate ad informarsi e quindi queste sanno e sapendo consigliano anche quelle che non sanno. Poi ci sono quelle che non sanno perché non hanno mai letto e poi ci sono quelle che sono contrarie. Non mi chieda perché sono contrarie. Possono essere contrarie perché no e basta. Sono contrarie forse perché diffidano di tutto ciò che riguarda la genetica sono contrarie perché qualunque esame che possa comunque prevedere che tu forse un giorno ti ammalerai fa paura. È difficile vivere con questa possibilità di malattia così presente e quindi preferiscono non sapere. Le domande, i dubbi, è chiaro in una situazione così difficile sono tanti. Che risposte è in grado di dare a Actonlus? Cioè voi che servizio date appunto alle malate, insomma alle donne con tumore ovarico? A noi diamo una molteplicità di servizi. Innanzitutto una gran mole di informazione con Depliano, Puscoli che si possono trovare sul nostro sito. Poi il nostro sito è ricco di informazioni sulla malattia. Forniamo un servizio di consulenza di un gruppo di esperti, sempre via sito, che è un servizio di consulenza a cui ci si può rivolgere gratuitamente. Da qualche mese funziona anche Pronto Acto che è la linea telefonica di primo aiuto. Telefonando al numero indicato sul nostro sito si possono avere informazioni sui centri di cura e si possono avere informazioni in materia legale, previdenziale, assistenziale. Ogni anno l'8 maggio in occasione della Giornata Mondiale del Tumore Ovarico organizziamo anche delle giornate di prevenzione con visite ginocologiche gratuite nei vari centri specializzati per la cura del tumore ovarico. insomma non vi manca il da fare? No, facciamo un sacco di cose. Anche per quest'anno abbiamo in programma tante cose nuove che riguarderanno gli studi clinici, che riguarderanno ancora il test BRCA, un argomento a cui teniamo molto, soprattutto in chiave di prevenzione per i familiari delle donne con tumore ovarico BRCA mutato e quindi la chiave prevenzione è quella in cui noi torneremo su questo argomento.